Ben trovati al tutorial di Bottega Maestro. Con questo video vogliamo mostrarvi come vengono ricaricate due penne. Abbiamo la siena e la mastiff. Il refill è una ricarica tipo parkestyle. Vediamo come ricaricare la siena. Prendere la penna e iniziare a svitare delicatamente, facendo attenzione a non perdere la molla. Estrarre il refill, cambiarlo e reinserirlo delicatamente. Ricordarsi di inserire la molla con la parte inferiore. Iniziare ad avvitare fino a chiusura. E la penna siena è pronta per scrivere la sua storia. Vediamo ora come ricaricare una mastiff. È una penna che si apre a girare destra o sinistra. Manteniamo la punta esterna e iniziamo a svitare la parte inferiore, facendo attenzione alla molla e all'inserto. Non lo facciamo cadere. estraiamo il refill, lo cambiamo e reinseriamo delicatamente, mi raccomando. Ricordarsi la molla e delicatamente avvitare la parte inferiore. E anche la mastiff è pronta per scrivere un'altra storia.